Oggi siamo qua su Inside Ah ok pensavo che dovevamo immergerci in acqua e già la cosa non mi stava piacendo Dobbiamo cercare altri tizi che ci seguano in modo da poter aprire quella porta Oh lì mi sa che ci sono dei tizi lì Ah sì ok questo già Non ci hanno preso per niente Ah ok Eh no Uh aspetta Ok Ah no non ce la fa Non lo so Aspetta dai raga Forse così ecco Vediamo un po' Ora ce la deve fare Venite con me Ok Mi sono accorta soltanto adesso che qui sotto c'era qualcosa di buono Ok allora Non so Qui non mi sembra ci sia nient'altro Quindi torniamo indietro e ora probabilmente Ci Non lo parlo Ok No mi sono un attimo messa paura Pensavo che Ho detto per un motivo ci sarà questa Quindi no Vabbè Ok venite con me che forse possiamo aprire quella dannata porta Oh eccoci qui Prendetemi Grazie Ok ora Ce la faremo C'è anche quel tizio morto Che ci fa un peso in più Quindi probabilmente ora ce la faremo Perché non è possibile che Ci mancano ancora altre cose Perché Allora forse la di qua Ora più su Non me lo ricordo Sì ok era su Quindi torniamo su venito Oddio quanta gente Ok Ok Eccoci qua E ora Oddio scusa sto facendo cadere la gente Raga Ce ne mancano appunto ancora diciannove Cosa? Cioè no eh Dove devo prendere altra gente raga Aspettate Perché visto che lì c'era una cassa Se magari noi torniamo giù La prendiamo La trasportiamo qui Potrebbe funzionare Ora non lo so Però potrebbe Ok Ora Andiamo di qua Proviamo a prendere Ah no Ah sì sì No no Sì 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 Possiamo farcela anche da soli Aspettate No raga Non è così Cavolo Non può passare qui Vabbè niente Quello io andrò un attimo in giro A controllare cosa potremmo fare O cosa potremmo portare Forse questa cosa cos'è Forse si tira un nuovo Ma neanche per idea Raga ma qua c'è un tizio Aspettate Ah ma beh beh Ne abbiamo un'altra in più ora raga Ce ne mancano quattro però Aspetta aspetta Ok qui Oh Ok Aspettate Aspettate Devo trovare il tempismo Bene Vedete che lì c'è qualcosa Mamma mia Fortunatamente sono ritornata qui A vedere se tutto era bene Ok No raga come si fa Se sbattono lì Tornano subito Oh mamma mia Non hanno il tempo Però forse Prendono velocità No Non l'ho fatta in tempo Ce l'ho fatta Dai Si Ok ragazzi No Ora Cioè Ora ce l'abbiamo fatta Ce la dobbiamo fare Per forza Cioè guardate Abbiamo un intero esercito Quelli che ipnotizzano la gente Stanno facendo qualche lavoro strano Su di loro Oppure è proprio loro che stanno lavorando Tipo Ce l'abbiamo fatta Ehi Seguitemi Ehi Ok mi prendono Ma Non proseguono Oh mamma mia No si è tolto Oh mamma mia Che raga cos'è Stanno bombardando tutto Ok Devo spostarlo Oh Sono morta Aspetta Aspetta Ok Raga non capisco Forse dobbiamo sbrigarci A fare quella leva Ok Al prossimo andiamo No sono scema Ok ragazzi Vai 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 Wow Non avrei mai immaginato Una cosa del genere No aspetta Dai Ok Ok Oh mamma mia Cioè ragazzi Cos'è Fatemi capire No al prossimo Al prossimo Ok Ora questa leva Che fa Oh Ho capito Mentre gira Ci deve proteggere Mentre saliamo Ok Ho paurissima No Ecco Chuffy Poi 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 Dai raga, dai raga Cioè ragazzi, sono ad un'ora di registrazione Non capivo come cavolo farlo È stato veramente un casino, cioè mi sto sentendo male Lo so che magari, cioè, un'ora di registrazione chissà Poi editerò questo video e arriverà a dieci minuti Non mi interessa niente ragazzi, dopo quest'ora voglio chiudere il video qua Perché, cioè, non ce la faccio più Mi dispiace ragazzi che vi do lasciare così In realtà forse nel prossimo episodio capiremo un pochino cos'è questa cosa Del perché sta succedendo tutto ciò Ci sono così tante vibrazioni, così tanta pressione Non ne ho la più palida idea Ma io direi che possiamo fermare con questo episodio Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti